Qui vale la pena di ribadire l'unità dell'Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti, la democrazia, la libertà, l'indipendenza e ovviamente una istituzione che come questa nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo non può non essere presente in un momento come questo, credo che anche il segnale concreto che emerge da questo vertice della istituzione, del registro sui danni provocati dalla guerra sia un segnale molto importante in una fase come questa.